buongiorno ragazzi questo non è un video sul calcio ma è una segnalazione la segnalazione che 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 devo fare tutelandomi anche da eventuali pazzi che hanno un canale youtube che fanno determinate cose perché fino a quando si scherza si scherza si muta sullo scherzo non mignoli ma quando poi si minaccia pesantemente quando io soprattutto fomenta odio gente che aveva canali con truffatori gente si spaccia per manager perché si vergogna del proprio lavoro gente si spaccia per cugino e parente di giocatori che che non è vero io do le prove allora a questo punto io racconto una bella storiella io mesi fa fui contattato da delle persone su youtube ma anche da da youtuber storici dell'inter proprio perché per mettere pace tra canali e mi disse smettitemi pure se volete smettitemi pure visto siete dei super uomini smettitemi pure tanto avete il mio numero di telefono sapete dove abito sapete tutto di me mi dissero giuse usiamo il tuo canale perché nonostante noi da vent'anni su youtube il tuo canale è quello più seguito di tutti e io disse non ci sono problemi metto a disposizione il mio canale fu fatta quella live che poi dopo per una canzone per un copyright fu cancellata fu fatta quella live dove noi lanciamo quel messaggio di distensivo tra interisti io mi hanno segnalato ieri mentre ero sul divano con i miei figli a guardare un film cartone animato i miei figli e con mia moglie giuse ti stanno minacciando giuse ti stanno minacciando e ho visto dei leoni con la bava alla bocca dove incitavano all'olio verso chi verso 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 chi eh non è contento di essere rappresentato da questo zang ah quel fuori classe dice che vedi zang tenere denuncia su youtube prima di denunciare youtubers partisse da quello della juve innanzitutto da olio di tonno poi da tutti i giornalisti opinionisti da chi parla di schema polsi ce ne so ce n'è qualche migliaio da denunciare partisse da quelli che in televisione lo infamano tutti i giorni lo dio quel fuori classe che ha detto che ora zang denuncia chi parla male su youtube se mi volete denunciare perché a me non piace zang e non mi sento rappresentato denunciatemi pure poi dopo vediamo cosa ho detto io di così tanto pesante comunque a questa gente incita all'odio che eh addirittura ti dicono vieni allo stadio se hai coraggio con il con lo stiscione zang out vacite allo stadio allora con lo stiscione se non ti fii zang non sei interista facciamo così io vengo lo stiscione zang out e te vai lì con lo stiscione se non ti fii zang non sei un interista vero vediamo poi dopo chi scuota più successo ma il problema è quello eh eh gente che si nasconde dietro dietro questo clima di protezione di questo presidente ma voi dovete dovreste abitare in Cina non in Italia perché in Italia c'è la libertà di parola voi non siete nessuno voi non valete nulla ognuno è liberissimo di esprimere di esternare la propria opinione voi siete voi siete dei pezzi di merda questo siete voi te lo dico io voi siete dei pezzi di merda e non c'è bisogno di andare allo stadio perché tanto voglio dire io giro anche per lavoro se se volete dirmi qualcosa ditemela in faccia da soli non ci sono problemi poi vediamo se avete tutta questa rabbia di persona perché magari è molto più semplice dietro un computer no esternare la rabbia esternatela di persona quindi questi personaggi che avevano canali con truffatori che si spacciano per manager che non sono perché si vergognano del proprio lavoro e voi dovete capire che ogni lavoro è nobile dallo Sturaccessi al grande manager ogni lavoro il lavoro equivale a nobiltà voi siete gente vi vergognate anche del vostro lavoro su quel canale di test di cazzo e non siete altro che è stato segnalato alla polizia postale ho fatto segnalare da tutta la chat siamo in quattrocento non in chat molto probabilmente non vi faranno nulla però intanto questo il vostro canale è stato segnalato voi siete gente fomentate odio contro persone come me che hanno famiglia a parte bisogna vedere se io vengo allo stadio mi fanno qualcosa che io se volete vengo anche allo stadio però poi dopo se mi succede qualcosa chi ha fomentato odio siete stati voi io sono un padre di famiglia che va a lavorare che paga le tasse non sono un delinquente io non ho mai detto zang schema ponzi zang zang come tante persone ci vanno pesante tutti i giorni io solamente detto che a me non piace che deve andare che non mi sento rappresentato come ormai la pensano milioni di interessi voi fomentate odio voi mi avete chiamato per mettere pace voi e do le prove di velo e dito voi fomentate odio minacciando padri di famiglia con dei figli venite allo stadio con lo stiscione zang out e poi vediamo cosa succede io ho tutto registrato non la cancellate quella live lasciatela lì voi siete dei pezzi di merda questo siete voi te lo dico io allora se volete incontrare tutti quelli a cui non vuoi non vogliono non vogliono zang contattatevi personalmente ci vediamo a mezza strada non ci sono problemi non nascondetevi dietro lo stadio troviamoci da un'altra parte e poi e poi dopo esprimetevi tutto l'odio perché ci prendiamo un caffè poi dopo vediamo tutto quest'odio se si riesce a calmare magari magari finendo tutto con un bello abbraccio che schifo che schifo voi fomentate odio voi state voi minacciate le persone voi sareste interisti voi voi sareste interisti che schifo grazie a tutti Grazie a tutti